bravi gialli questo era l'atteggiamento che volevo vedere buongiorno gialli benvenuti al post partita di cesena modena cesena modena 2 a 2 gol al 28esimo di mendes al 39esimo di bastoni al 46esimo di spendi e al 55esimo di zaro 2 a 2 partita dalle mille emozioni ma quella cosa che più mi importava e aver visto in modena che è sceso in campo con una mentalità vincente con la voglia di vincere questo derby cosa che mi auguro sempre di vedere in ogni partita al di là del derby che è una partita che un po si prepara a sé l'ambiente carico bisogno di cesena eccetera 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 io voglio vedere che in modena faccia questo genere di piare con questo genere di atteggiamento su qualsiasi campo e contro qualsiasi avversario questa cosa che mi preme di più ma venendo lo specifico nella partita di ieri partita un po dalle mille emozioni modena che alla il dominio territoriale del campo per 35 36 37 minuti diciamo così dove viene concretizzato questo dominio al 28esimo con la vita del vantaggio di mendesce su una bellissima giocata di caso giocatore veramente che sarà fondamentale da qui in avanti appena acquisisce della autonomia fisica della brillantezza fisica questo giocatore che difficilmente può stare in panchina comunque mendesce il nostro bomberone ci porta in vantaggio e in modena dava veramente l'impressione che poteva essere padrone del campo è vero che in modena in questo arco di 35 36 minuti non ha avuto grandi occasioni un numero frequente di occasioni da gol però il dominio territoriale territoriale gli amici di cesena non me lo possono smentire se erano lo stadio ne hanno visto anche l'orca lavorare poi vero che cesena cercava di ripartire ma siamo 11 contro 11 non è che non possono fare nulla gli avversari peccato però che pecchiamo ancora di quell'ingenuità di quegli errori che facciamo da squadra non matura per centrare per lottare quegli obiettivi di alta classifica perché un gol che ha come abbiamo preso come quello di bastoni che proviene dal lato sinistro credo di adamo che potagli ragazzi è andato in difficoltà e contro quello lì di cotale veramente non ci incampanava molto di fatti poi è stato anche sostituito ed è stato anche ammunito comunque l'azione del pareggio da cesena proviene da quel lato si accentano fanno la sponda del passaggio per bastoni e lì non siamo stati insomma feroci aggressivi nell'andare a chiudere su bastoni di bastoni non ha fatto un tiro fortissimo un tiro molto molto preciso nell'angolino però gli è stato dato tutto lo spazio del mondo per poter prendere la mira e lì non va bene lì bisogna credere l'avversario perché eravamo sul finale del primo tempo lì una squadra matura deve cercare di portare a casa il vantaggio alla termine del primo tempo è lì che non riusciamo a crescere siamo cresciuti rispetto al cittadella rispetto alle partite perché abbiamo avuto più dominio territoriale più più forza eravamo più padroni del campo però in quei frangenti in quei momenti in cui bisogna essere malizioni qui bisogna essere anche sporchi cattivi per portare a casa anche solo nel primo tempo il vantaggio lì dobbiamo crescere siamo ancora la quinta giornata del campionato ma lì dobbiamo assolutamente crescere poi di pardo ci ha graziato con i colpi di mano alla mille sciro furbo ha cercato poi di tirare subito indietro la mano però il bar non perdona soprattutto non perdono il modena perché il bar fino ad ora con noi è stato poco clemente prova bene ci stiamo lamentare di queste cavolate calcio di rigore per cesena cesena va in vantaggio dopo per 37 minuti non aver fatto niente ma non è giusto quindi riportiamo ci riportiamo in pareggio nel 55esimo su quel corner di palumbo e il testone di zaro dritto per dritto tra figgio potire de cesena e lì di tutti noi che eravamo a cesena ieri tutti coloro che vedevano la partita in televisione avranno detto adesso andiamo a vincere perché mancava tutto un secondo tempo e invece caldara ci ha graziati con quell'intervento da killer veramente se il giocatore del cesena teneva la gamba dritta spaccava la gamba fortuna che l'ha tenuta un po inclinata l'impatto è stato violento ma spero che non c'è spero che il giocatore del cesena non ha avuto particolari particolari problemi lo auguro con tutto il cuore perché comunque quel tipo di interventi sono veramente l'intervento killer da parte di caldara c'è capisco l'agonismo capisco perché io lo capisco che eravamo in un momento in cui volevamo andare in vantaggio avevamo quella cattiveria cazzarò di recuperare subito il pallone per poi riportarci in avanti però lì da un giocatore dell'esperienza di caldara bisognava essere meno eruenti e un po più furbi partivano i contropiedi volevano andare sul pallone ma fa mica caldo per partire in scivolata a momenti cinque metri prima una roba assurda speriamo che gli diano solo una giornata che potrebbe essere anche sanzionato con più di una giornata di squalifica col genere di interventi è vero che cesena ha avuto subito un'occasione all'inizio del primo tempo poi siamo passati appunto del secondo tempo poi siamo passati in pareggio e poi abbiamo avuto anche l'occasione per riportarci in vantaggio nonostante eravamo in dieci uomini su quel dribbling di abuso che ha fatto quel tiro più di pardo di non lo so cioè io quando quando vedo dei giocatori che non usano la testa mi incazzano a morire lì avevi bosonai di fronte a te ma che cazzo ti giri su te stesso per poi cercare di tirare in porta da solo ma appoggio la bosonai poi non è detto che faccia gol però bosonai il tiro ce l'ha magari lo specchi dalla porta lo prendeva a volte bisogna anche essere un po più altruisti non con questa cazzo di mentalità faccio io giro inganno l'avversario ma passa la bosonai che era di poi di sarebbe stato bello da vedere comunque sostanzialmente poi la gara si chiude su quel colpo di testa che prende il palo dei giocatori di cesena e finisce due a due ecco veramente il da mangiarsi le mani perché se fossimo rimasti in parità numerica secondo me quella partita di veramente potevamo andare da vincere poi bisognava era tutto da dimostrare però lì la voglia di andare da vincere c'era la squadra era era messa bene in campo dove è stato anche bravo bisoli nel secondo tempo a cambiare cotali e santoro inserendo idrissi e abiuso è passato due punte davanti ha fatto questa specie di 4 24 4 4 2 e modena ha avuto veramente la la insomma aveva già la predominanza territoriale nel primo tempo nel secondo tempo ci ha aggiunto anche quella voglia di non perdere quella ferocia di portare a casa almeno il punto e così è stato molto bene all'atteggiamento dei gialli dobbiamo migliorare la fase difensiva non tanto secondo me la difesa perché la difesa sta reggendo bene avete visto buttavano in mezzo i palloni cercano di entrare dentro comunque in modena difensivamente ha retto bene dobbiamo migliorare in quei frangenti della fase difensiva dove lì in mezzo a campo non riusciamo a coprire bene non riusciamo a essere anche aggressivi talvolta quando non riusciamo andare subito a recuperare la palla appena la perdiamo lì quando dobbiamo arretrare lì ci sono dei problemi nel tenere botte nel cercare di recuperare il pallone nella fase difensiva soprattutto in mezzo a campo è un po come il gol del cesena di bastone è simile per certi versi anche il gol che abbiamo subito internamente con il cittadella per il genere di manovra che si è creata e lì modena deve crescere perché se dobbiamo adottare per il lato sinistro della classifica queste partite pavano vinte al di là che un derby al di là di tutto però era un avversario questo abbordabile per il modena per la qualità che a modena quindi per il futuro lì dobbiamo imparare da altra parte l'altra faccia della medaglia era in modena che volevo vedere come disse nel video di giovedì era questo l'atteggiamento che volevo vedere da parte del modena e speriamo che con la juve stabia riusciamo a concretizzare e ma soprattutto mantenere quell'atteggiamento ma anche a concretizzare quella quella attenzione per non subire determinati gol perché ragazzi adesso ok ma se non curiamo questa cosa a febbraio e marzo ci si giocano dei campionati quindi bene ma miglioriamo ancora siamo solo da quinta ci sono tanti alpi margini di miglioramento ma almeno l'atteggiamento del modena che volevo vedere la squadra che si vuole imporre la squadra vincente ieri sera l'ho visto dai gialli grazie a tutti